Per gli animali dell'app2, lasciami vedere solo una cosa l'hai detto all'inizio tu Noi alla fine andiamo in acqua, salviamo le persone che stanno in acqua ma sappiamo di poter contare su una sorta di motore intelligente, ausiliario che ci viene in aiuto perché possiamo fare le cose più velocemente, perché possiamo recuperare fino a due, anche tre persone loro riescono a trainarle, trainano delle piccole imbarcazioni, è una forza in più su cui noi possiamo contare Normalmente siamo operativi sulle spiagge libere in accordo con i comuni dove ci sono delle criticità maggiori quindi non negli stabilimenti privati ma nelle spiagge libere dove c'è più affollamento, dove magari c'è qualche carenza di bagnini oppure non ce ne sono assolutamente di bagnini e allora noi siamo di supporto Facciamo una gara, Cade? 39 persone con voi Siamo un'associazione che ha degli accordi con la Guardia Costiera perché è l'unica associazione che ha un protocollo di intesa che è quello che oggi tra l'altro rinnoviamo, per cui siamo abilitati a salire sulle motovedette della Guardia Costiera e in questo modo collaboriamo Quanto scordo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!